Ho provveduto ad affidare la Casa Santina Giunta ad altra congregazione religiosa per rispettare la volontà del dottor Francesco Paolo Giunta e rassicurare pertanto alla parrocchia della Chiesa Madre e all'intera città la presenza di quel servizio pastorale che è stato unanimemente apprezzato in questi lunghi anni. Così il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, rassicura sul futuro di una delle istituzioni centrali per la storia della città di Pozzallo. Un ringraziamento alle figlie di Maria Osidiatrice per il servizio alla comunità reso in questi anni, interrotto proprio alla vigia del centesimo anniversario, causa, carenza di vocazioni e assenza di alternative. E la sottolineatura da parte dello stesso Vescovo che le suere salesiane accompagneranno la formazione specie per la continuità dell'oratorio di coloro che le sostituiranno. Una notizia rilanciata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha ribadito la buona notizia relativa alla continuazione della funzione religiosa e sociale della Casa Santina Giunta. Nell'essere rammaricati del venir meno della presenza salesiana a Pozzallo, alle soglie del primo centenario, siamo fiduciosi che l'operato del nostro Vescovo potrà garantire una continuità educativa destinata ai giovani della nostra città, conclude il primo cittadino con particolare attenzione a quanti sono in difficoltà.